Lapide di Pio VI Anche la grande lapide in travertino, posta sulle mura a destra della Porta del Popolo, con lo stemma di Papa Pio VI Braschi, è un ricordo di tempi passati. Ci racconta che questo Papa, a fine Settecento, prende atto della situazione critica dell'antica legnara, cioè il deposito cittadino della legna, che si trovava dentro le mura a Ripetta, dove ora c'è l'Accademia di Belle Arti. La legnara, infatti, era soggetta a frequenti furti e incendi, questi molto pericolosi per la città, quando c'era un forte vento che spirava sul fiume. Il Papa esaudisce le richieste di mercanti, fabbri e falegnami, compra una vigna lungo il fiume e ordina la costruzione di un nuovo deposito, finalmente in muratura. La lapide, che si trova qui dal 1906, era qui vicino all'ingresso della nuova legnara. L'iscrizione ci ricorda l'importanza del legname in una città ai tempi in cui, non esistendo petrolio, gas né elettricità, il riscaldamento, la luce e l'energia per le botteghe dei fabbri e le cucine era garantita solo dal fuoco, quindi dalla legna, e tutte le attrezzature per costruire erano in legno.